40 militari dei carabinieri delle stazioni di tutta la provincia di Macerata sono impegnati nella serie di servizi di controllo a Porto Recanati nei famigerati condomini popolosi Hotel House, River Village e Paradiso Azzurro dove sono in corso identificazioni di persone per lo più stranieri ma anche perquisizioni e controlli veicolari. Nell'operazione concorrono un elicottero del quinto elinucleo dei carabinieri di Falconara, le unità cenofile della Guardia di Finanza e la Polizia Municipale di Porto Recanati. La risposta delle forze dell'ordine è stata immediata dopo i reati che si sono seguiti in queste ultime settimane anche per dare un segnale forte che abbia a che fare con quella che viene spesso definita percezione di sicurezza della comunità rimasta attonita di fronte agli ultimi eventi. In tre mesi si sono susseguiti due omicidi di Dreyf Lofty e Ardian Sheag e un tentato omicidio. Mallo Hotel House si sono verificate anche risse conferiti e sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di droga con l'arresto di uno spacciatore. Tutti gli episodi hanno visto un rapido intervento dei carabinieri di Porto Recanati e in nessun caso è rimasto irrisolto. Ma ci si rende conto che non basta. E stasera, come nei prossimi giorni, i militari dell'arma, anche sulla scorta delle direttive di coordinamento assegnate dal prefetto di Macerata, continueranno a garantire assidue presenze dirette e coordinate sul campo dalla Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche.